Papa Francesco chiude l'ultimo spiraglio di legittimità alla pena di morte. Bolla la tratta degli schiavi e le relative complicità degli stati come crimine contro l'umanità. Parla di poteri spietati che infliggono trattamenti inumani ai carcerati. Tutte questioni le definisce che... Pur essendo in parte opinabili, in parte, toccano direttamente la dignità della persona umana. Udienza alle 12 di oggi in Vaticano all'Associazione Internazionale di Diritto Penale. Bergoglio ha in serbo una dettagliata requisitoria in materia con un severo sguardo allargato al mondo intero. Pena di morte, anzitutto, impossibile immaginare oggi, afferma che uno Stato non abbia altri mezzi per difendere una o più vite da una ingiusta aggressione. Ma ci sono anche purtroppo le cosiddette esecuzioni extragiudiziali, omicidi mascherati commessi dallo Stato. Ed è l'ergastolo, recentemente abolito in Vaticano, dice... L'ergastolo è una penna di morte coperta. Capitolo carceri, che non bastano mai, anche perché piene spesso di detenuti non ancora condannati in realtà. Ci sono paesi, a nota, dove costoro costituiscono addirittura più della metà della popolazione carceraria. E si è un po' affievolito, altra annotazione, il dibattito su come sostituire il carcere con pene alternative. E ancora, no alla tortura, purtroppo sempre più diffusa, no alla detenzione di anziani, bambini malati, disabili, donne incinte, genitori ai cui figli nessun altro potrebbe provvedere. Sulla corruzione, la sversante riflessione del pontefice è che è diventata quasi un'abitudine in ogni negoziazione che coinvolga agenti dello Stato. E la rete delle sanzioni penali troppo spesso cattura stranamente solo i pesci piccoli. Agli operatori di diritto penale va pure un non scontato incoraggiamento a non cedere alle pulsioni di vendetta di politici e mass media, al populismo secondo cui la pena può risolvere i più disparati problemi sociali. Per dirla in estrema sintesi, come Francesco, in conclusione, non esiste finalità neppure socialmente utile a cui lo Stato possa subordinare il rispetto della dignità della persona.